Diego Magandi e Leonardo Piccinini benvenuti all'almanacco di bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non solo una produzione classica hd sky canale 136 in collaborazione con intesa San Paolo almanacco di bellezza 8 gennaio Leonardo Piccinini Piero Maranghi Leonardo oggi parleremo di una pittrice che ha avuto anche lei molta molta passione per questo soggetto che si chiama Elisabetta Sirani vita breve produzione vasta vastissima anche perché c'era la bottega del padre che lei aveva ereditato è una protagonista di rilievo del del secolo il seicento il secolo del barocco importantissimo per la nostra pittura dove ci sono due figure femminili diciamo prime inter pares Artemisia Gentileschi a Roma e Elisabetta Sirani a Bologna con la differenza che se possiamo dire che mentre il padre di Artemisia Gentileschi era comunque un grande artista e il fenomeno Artemisia oggi è molto pompato anche in virtù della sua vita sostanzialmente e del fatto di essere donna per cui comunque senza aver paura di essere censurati nel caso di Elisabetta Sirani ecco il padre è più modesto il padre era uno stretto collaboratore di Guido Reni Giovanni Andrea Sirani e Elisabetta è un grande mito per la città di Bologna è tra l'altro un artista molto richiesta dal mercato oggi anche in virtù del fatto che appunto le pittrici femminili di grande importanza si contano sulle dita di una mano lei è facilitata dal fatto che a Bologna c'era una tradizione molto importante di figure femminili che si emancipavano sia nell'università che anche nella pittura basti pensare al caso di Lavinia Fontana che è stata al centro l'anno scorso di una grande mostra al National Gallery di Dublino e che appunto ha goduto già in vita di grande fama di una letteratura fortunata di una morte incerta su cui molto si è romanzato e quindi insomma è un nome che ricorre spesso nella nella storia dell'arte hai detto bene lei in maestria certamente supera il genitore c'è da dire che questo genitore merita un plauso perché appunto seguendo quella tradizione di Bologna che tu ci hai ci hai narrato lei e le sorelle hanno accesso alla scuola del padre e subito proprio lei è quella che dimostra lo spiccato talento e sappiamo peraltro che l'unico figlio maschio quindi forse quello più naturalmente designato avrebbe intrapreso una carriera di medico lei già a 17 anni era capace di misurarsi con estrema disinvoltura sia con soggetti sacri che profani lei è un artista nel solco del classicismo bolognese e in particolar modo del mondo di Guidoreni Guidoreni muore quando lei aveva solo quattro anni quindi in realtà non ha avuto un allunnato e la direzione di Guidoreni è filtrata attraverso il padre certo e la sua è una tecnica pittorica abbastanza innovativa e inconsueta per il tempo nel senso che lei aveva un tratto molto veloce con cui realizzava degli degli schizzi e poi acquerelli e ci sono varie testimonianze dirette di questa sua grande abilità prima tra tutti il canonico carlo cesare malvasia una sorta di vasari del seicento bolognese la sua opera più famosa è felsina pittrice felsina pittrice dove racconta le vite dei grandi artisti si dice che avesse anche una sorta di innamoramento per lei per elisabetta sirani e ci narra appunto di quella enorme realizzazione il battesimo di Cristo che di fatto per lui è un'esperienza folgorante la maestria e l'abilità della nostra protagonista la possiamo anche ammirare nel campo dell'incisione e questo è molto raro direi che è un caso quasi unico cioè gentil sesso in quel mondo che realizza delle opere così precise così nette senti Leonardo sappiamo che a un certo punto c'è un incontro importante sì beh allora il padre all'inizio non voleva che lei viaggiasse perché la teneva un po chiusa in casa e lei sfrutta questa cosa per far diventare il mondo del suo studio una meta quindi creare una sorta anche di mito delle fanciulle sì una pittrice di clausura potremmo dire a me vengono in mente le violiniste o le coriste di Vivaldi esatto ed erano gli altri ad andare in pellegrinaggio da lei anche perché non dobbiamo pensare alla pittura come non so allo studio dei pittori di oggi che sono bravi sono intelligenti sono interessanti però non sono al centro della società cioè le guerre non si fanno con la pittura allora anche le guerre si facevano con la pittura perché i ritratti dei potenti erano il veicolo di comunicazione di chi eri davanti al mondo pensiamo a Giulio II faceva tremare tutti la pittura allora era pubblicità era propaganda era tutto e soprattutto gli artisti erano molto ricercati alle grandi corti quindi ci sono i medici sappiamo che si hanno più volte in in visita cosimo terzo dei medici ma ci sono anche sovrani stranieri è un è un po' un fenomeno da baraccone diciamolo questa è un fenomeno da baraccone che ci piace tantissimo sì noi saremmo stati lì a preparare il caffè per le fanciulle della sirani mola sirani o i colori senti cosimo terzo dei medici che ancora principe ereditario la la ammira mentre lei dipinge con rapidità uno dei bambini che compare nella nella tela giustizia carità e prudenza e il futuro granduca decide di commissionarle la madonna con bambino ecco la la fortuna anche di quest'artista è la bottega del padre sì la casa sua capacità organizzativa sì diciamo una una capacità ben avviata di gestire una uno studio e poi immaginiamo cos'è la bologna di quegli anni la bologna del seicento è una città molto ricca piena di committenze piena di ricchi signori che ambiscono ad avere delle collezioni delle quadrerie tante chiese tanti monasteri cioè un mondo infinito diciamo che quello che conserviamo oggi di quel di quel mondo secondo me non si avvicina all'un per cento di quello che fu realizzato sono tanti artisti qui non ricordiamo neanche i nomi ma lei stessa ebbe delle artiste di scepole peso a ginevra cantofoli ad esempio nomi che sono anche per anni rimasti molto nascosti e solo oggi vengono ristudiati è molto interessante però è davvero rimarcabile sottolineare il fatto che in vita una vita brevissima con una produzione vastissima le sue opere grazie alle diplomazie agli stessi regnanti incominciano a occupare le collezioni di tutto di tutto il mondo di tutta europa diciamo e oggi ne trovate testimonianza perché la sua presenza in tante pinacoteche è proprio il segno di questa fortuna lei a un certo punto diventa addirittura 1660 professoressa alla mitica accademia d'arte di san luca sì e a soli 24 anni sostituisce il padre molto malato che però le sopravviverà per alcuni anni nella gestione della bottega e quindi diventa una scuola femminile di pittura sostanzialmente ed è la prima donna in europa a dirigere un numero così importante di donne anche in questo si vede la tradizione di liberalità di accoglienza la bonomia bonomia di bononia di bologna bologna papale ma diciamo molto libera rispetto al controllo severo della chiesa bologna universitaria bologna universitaria bologna gaudente e in questa in questa emancipazione femminile c'è il segno di una notevole liberalità tra l'altro lei restando nubile in qualche modo incrementò questa professionalizzazione della pratica artistica al femminile questa femminilità di cui abbiamo parlato leonardo si riverbera anche nei soggetti nella forza con cui lei è capace di esprimere sì è come se lei si autoraffigurasse in queste eroine femminili che d'altra parte piacevano molto alla committenza dell'epoca perché c'era sempre un insegnamento non erano delle figure qualunque da quella che si suicida per non consegnarsi agli stupratori c'è quella che salva roma cioè è tutto è tutto una orzia è una pittura che parla leopatra sì c'è anche circe tra i tuoi soggetti l'aspide sono donne quindi intelligenti sono donne coraggiose sprezzanti del pericolo e capaci anche di violenza subita o inferta sono donne che vengono nobilitate da valori che generalmente venivano associati alla sfera maschile questo la rende attualissima con nostro plauso e poi diciamo la verità perché tutte queste donne perché spesso queste eroine venivano raffigurate anche un po di scinte ed era certamente più bello vedere un'eroina della classicità rispetto a un eroe barbuto tra un sansone e una cleopatra è più bello vedere una cleopatra magari mezza nuda certo in queste case di signori che si annoiavano molto e che stavano lì a guardare il quadro e si svegliavano non c'era molto altro poi devo dire che questa per esempio giuditta e oloferne è perfetta perché giuditta è la contro riforma che taglia la testa a oloferne che è il protestante sì e poi ci si riconoscono tutti ci si riconoscono tutti la signora che deve subire vessazioni vede giuditta e loferne come mi piacerebbe certo senti leonardo un'altra curiosità lei firmava le sue opere anche se alla donna non era dato valore legale attraverso la firma pensate il suo nome a un certo punto diventa un po come quello dei marchi di moda cioè era dappertutto lei lo ricamava sui bottoni sui polsini sulle scollature molto femminile sulla passamaneria e attraverso anche gli autoritratti ci piace dire capire che era un carattere consapevole consapevole ecco chiaramente il fatto che il padre le sia sopravvissuto sa morte diciamo improvvisa 27 anni allora si alimenta il mito dell'avvelenamento cioè la leggenda voleva che una serva di casa entrata in lita con la famiglia anche questo è un caso che torna più avanti non so guardate il film rapito di bell'occhio anche lì c'è la serva che denuncia le autorità la faccenda e anche malvasia alimenta questa questa diceria è un po è un po come Dodi al-Fayed che crea il mito della dell'incidente della su commissione di Diana però in realtà sembra che lei sia morta per una peritonite senti è bello dire che le sue esequie furono celebrate in pompa magna agosto del 1665 viene sepolta nella basilica di san domenico accanto a guidoreni e ancora adesso potete andare a trovare la tomba andate in san domenico che una chiesa mitica della cristianità non così conosciuta come dovrebbe essere mi piace concludere citando giovanni luigi piccinardi che allora la esaltò come la gemma d'italia il sole dell'europa e il conte malvasia sofferente la ritrasse come la pittrice eroina di bologna evviva e oggi ne abbiamo parlato perché appunto lei era nata l'otto gennaio del 1638 quindi segno è capricorno com'è il segno del capricorno è tenace ed uvo leale bene va bene lui fa anche gli oroscopi se voi avete sì l'ho mandato un attimo a tupelo nel mississippi nel mississippi perché l'ho sentito caldo hai sentito caldo l'otto gennaio del 1935 quindi quasi quasi giusti giusti 300 anni dopo la nostra prima protagonista nasce a tupelo e se fosse ancora vivo oggi avrebbe 89 anni elvis the pelvis elvis presley e siamo felici di parlarne oggi tu sai fare tutte le mosse di elvis sì soprattutto quelle elettriche le mosse pelviche le pelviche dopo vi faccio vi faccio vedere un contributo per fai così anche sì sì tutto tutto con dei colpi e le ragazze sotto il palco impazziscono purtroppo impazziscono c'è solo il baby russa e quando vede quelle mosse mi viene fame senti elvis è morto purtroppo il 16 agosto del 1977 quindi a soli 42 anni nel bagno della sua famosa reggia di graceland siamo a memphis un kitsch bestiale ma è una cosa neanche liberaci stroncato da un infarto e probabilmente non probabilmente certamente provato dall'abuso di psicofarmaci anfetamine alcol barbiturici stimolanti il corpo pensate quel corpo che tanto aveva dato al suo successo planetario era un corpo deformato di quasi 160 mamma mia perché poi lui aveva preso questa china terribile mangiava solo panini che faceva lui che faceva lui il cibo spazzatura sì junk food mamma mia anche Trump sembra che mangi delle cose orrende si vede si vede le marmellate il burro d'arachidi il burro d'arachidi io mi ricordo quando andavo in famiglia in inghilterra il packet lunch per me era l'unica cosa che avevo imparato cioè packet lunch da lanciare perché c'erano questi panini col burro d'arachidi e da allora tu quando senti burro d'arachidi senti Elvis è ancora vivo non perché come Jim Morrison come James Dean è stato visto da una serie di squilibrati terapiattisti è ancora vivo perché è morto giovane no perché la sua musica è eterna è vero e perché lui resta ancora oggi il numero uno cioè è il capo della grande rivoluzione della rivoluzione tra l'altro più incruenta della storia cioè quella del rock and roll allora possiamo anche citare le recenti uscite Leonardo il film di Buzz Lorman con Austin Butler due anni fa poi l'anno scorso è uscito Priscilla di Sofia Coppola sulla sposa bambina di Elvis mamma mia mamma mia qui mi viene in mente Michael Jackson che tra l'altro Lisa Mary Presley avrebbe sposato l'unica figlia che è morta pensate il 12 gennaio quindi quasi un anno fa del 2023 una staffetta tra due giganti però molto diciamo sfortunati e anche molto masochisti possiamo dire noi siamo quelli di classica HD cioè i nostri miti fondativi sono Leonard Bernstein o Maria Callas Gavazzini Gavazzini certamente ma Gavazzini tutti però tutti Gianandrea Gavazzini Pino Giovanni Paolo Sì sì anche i nuovi Sì sì tutti Sì sì tutti Però nemmeno noi possiamo negare l'impatto che negli anni 50 l'avvento del rock ha portato a livello planetario e non è soltanto un un apporto musicale o artistico è un apporto della società è un fenomeno di costume certo è la bomba è la bomba è la bomba e Elvis è il campione assoluto di questa vicenda nato nel nulla in una in un luogo maledetto in una casetta appunto a Tupelo che fino allora non si era mai sentito e che diventa veramente un luogo mitico nasce il pellegrinaggio anche dove è nato Elvis? A Tupelo e tra l'altro è maledetta anche la nascita perché nascono due gemelli e Jesse Garron il primo muore e il secondo mezz'ora dopo Elvis c'è una foto di Elvis bambino in mezzo ai due genitori che proprio rappresenta quell'America poverissima l'America di fine anni 30 che comunque risentiva ancora dell'onda lunga della crisi il New Deal insomma iniziava però a Tupelo nel Mississippi ci voleva ancora un po' prima che arrivasse il beneficio tra l'altro è un'America che noi abbiamo raccontato attraverso Dorothea Lange Dorothea Lange perché è proprio quel mondo allora noi potremmo dividere la carriera di Elvis in quattro parti nella prima è il ragazzo che si trasferisce a Memphis a 13 anni nel Tennessee nel Tennessee e matura la sua cultura musicale ed è una cultura musicale coraggiosa e anche un po' ribelle sì alla fine l'invenzione di Elvis che cos'è? è un sincretismo cioè lui ascolta le messe gospel gira la sera nella Broadway nera della città ed è lì che assorbe la musicalità sì la musicalità country western i classici blues lui diceva mi piacevano molto i cantanti brutali del Mississippi anche se a casa mi avrebbero ucciso se mi avessero sorpreso ad ascoltarli siamo in Mississippi Burning esatto siamo in un luogo dove come dire i neri se la vedevano bruttissima veniva chiamata la musica del peccato ma credo continua Elvis che non mi sia mai importato era dispostissimo a correre il rischio quindi la radice della cultura musicale di Elvis deriva dall'aver ascoltato questi cori che tutti voi conoscete che avete sentito e ascoltato in mille film un mondo che era intriso di musica certo allora che cosa accade? c'è una fortuna perché a Memphis c'era una casa discografica indipendente la Sun Records che era gestita da un avvedutissimo produttore Sam Phillips e questo signore aveva già segnato un grande punto a suo favore perché nel 51 secondo gli storici è stato lui a produrre il primo disco di rock'n'roll per i cultori Rocket 88 di un tale Jackie Branson era una sorta di Senardi di Memphis bravissimo e quindi dedichiamo questa puntata all'immenso Stefano Senardi e tutti acquistate La musica è un lampo per i tipi di Fandango Libri un racconto, una storia, un pezzo di storia d'Italia di un grande imperiese ciao Stefano senti Leonardo per la Sun Records e per Phillips tra il 54 e il 55 Elvis Presley registra 5-45 giri che sono il sacro graal degli appassionati in genere sono pezzi blues che erano già stati cantati da bluesmen di colore ma non importa perché lui gli ridà nuova vita gli ridà nuova vita pensate su circa 800 canzoni registrate in carriera il suo nome tra gli autori compare sia e no una decina di volte però lui ha qualcosa che è perfetto per rendere questa musica universale canta come un nero ha ritmo, ha enfasi e ha soprattutto un'impazienza, un'urgenza tutta particolare dando sempre l'idea di un giovane cantante bianco che stesse esaltando quelle libertà che servivano al mondo intero sì, inoltre era un grande showman beh, l'abbiamo detto quindi dal vivo era fenomenale e mentre canta fa una cosa che nessuno ha mai fatto prima e che come abbiamo ricordato prima Piero riesce a emulare in modo perfetto no, qua invece Leonardo lasciami dire sei tu che nella doccia scuoti le gambe e il bacino come se fossi percorso da una corrente elettrica o pervica e mi stanno attenti però nella doccia alla fine del 55 arriva il super contratto certo, porta il successo universale ma arrivano i soldi e comincia a imbolsirsi è un contratto un po' temerario RCA, la grande major e il nuovo manager è il terribile famigerato colonnello Tom Parker un'imper... navidità tu quando dici impresario olandese pensi già ai caini coloni olandesi ti mancava un occhio come minimo dalla biografia oscura non era uno che guardava Fermet secondo me questo ci porta quindi alla seconda parte della sua carriera nel 56 prima che Elvis vada sotto le armi è un ciclone assoluto che il mondo dello spettacolo vedrà veramente poche volte mi viene da dire forse solo con i Beatles lui nel decennio prima dei Beatles è il grande fenomeno planetario che comincia a interessare i giovani di mezzo mondo 11 numeri 1 in classifica ogni concetto è un pandemonio le sue apparizioni televisive sono epocali scusate, ricordiamo anche che questo signore a un certo punto va a fare in diretta televisiva il vaccino per l'Apoglio esatto e cambia il mondo è vero cioè in America di colpo nessuno lo voleva fare invece da quando l'ha fatto lui tutti gli sono andati dietro senti Leonardo poi avevi vestiti con le frangette anche tu ne hai no? alcuni sì con la camicia bianca però Leonardo li metto solo quando vado sui viali con la parrucca è da lì che i cugini di campagna hanno preso spunto meravigliosi quindi in campagna salutiamo anche loro senti l'eco di questi due anni straordinari si riverbera fino al 60 quando lui torna dopo il servizio militare in Germania allora qui inizia quella terza parte che lascia qualche dubbio allora che cosa succede? che il colonnello Parker lui comincia a ingrassare sì ma all'inizio neanche troppo però il colonnello Parker decide che lui debba fare dei film ne fa 31 ma girava armato il colonnello Parker secondo me sì dal 56 al 69 quindi era un ritmo frenetico più di due all'anno lui fa 31 film e l'unico buono diciamo il più bello viva Las Vegas erano come i nostri musicarelli bravo a piatta Morandi che cantava in ginocchio da te e tra l'altro arrivano i grandi nuovi protagonisti cioè i Beatles gli Stones Dylan i Dogs tutta gente che lo adora ma lui in qualche modo è come se decidesse di stare fuori da questa rivoluzione perché l'ha già fatta ed è una rivoluzione definitiva alla fine degli anni 60 c'è l'ultimo colpo di reni Leonardo sì il colonnello il colonnello Kurz vorrebbe imporgli uno special di canzoni natalizie penso alla tristezza il povero Elvis lui invece dice no finalmente e si esibisce in un memorabile show televisivo in cui torna a cantare dal vivo e la zampata registra il suo album più bello From Elvis in Memphis è una raccolta divina di blues carismatici e lenti pop soul è il disco tra l'altro che contiene di fatto l'unica canzone di protesta del suo repertorio in The Ghetto siamo nel momento in cui è appena morto Martin Luther King che ha proprio alla situazione esplosiva dei ghetti neri d'America aveva dedicato gli ultimi anni della sua vita è morto Bob Kennedy quindi è anche un artista che è molto interessato alle differenze e agli orrori di una certa America certo senti Leonardo arriva in me la quarta parte che è segnata da dischi più o meno inutili da qualche evento e da brevi tour negli Stati Uniti e lunghe lunghissime residenze a Las Vegas fino all'epilogo da cui siamo partiti del 16 agosto del 1977 noi però sorridiamo facciamo gli auguri a Elvis devo dire che ci ha lasciato anche dei personaggi dei cantanti degli artisti che hanno preso le mosse da lui pensate a Little Tony o Bobby Solo avevano tutti la banana in testa perché oggi Elvis compierebbe 89 anni 8 gennaio 1935 dobbiamo anche annunciare che faremo presto un'asta con le camicie alla Elvis di Piero sì è vero ecco perché non posso più mettere perché sono talmente ingrassato per il burro d'arachidi no quello non lo mangio no 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 io adesso mi dedico a cose più importanti anatre il pollo di Bress cioè cose che come dire emozionano emozionano il burro di arachidi poca emozione poca Leonardo tu ci parli di dunque 80 anni da un evento tragico della nostra storia il processo di Verona 1944 Galeazzo Ciano e tanti altri vengono liquidati dal regime sono quelli che si sono posti a Mussolini nella seduta del Gran Consiglio opposti adesso lasciami dire sì beh si sono opposti insomma va bene però per carità la fine che fanno il vero dramma interessante è quello di Edda Ciano Mussolini ecco allora c'è il film bellissimo del 1963 di Carlo Lizzani sul processo di Verona è uscito da poco questo libro di Enrico Mannucci Morire è poco l'esilio di Edda Ciano per i tipi di Neripozza e racconta delle vicissitudini di questa donna che era stata la donna più potente d'Italia e che improvvisamente proprio alla sera di sabato 8 gennaio quindi 80 anni fa del 1944 al confine con la Svizzera si nasconde sotto il fieno di un carro per poter passare la dogana a 33 anni la figlia del Duce è una donna stremata cupa quasi isterica attraversa una delle fasi di pessimismo e autocomiserazione per lei ormai frequenti quanto prima erano state quelle di esaltazione sicumera pazzesco è una storia molto interessante leggetela avventurosa la crudeltà cieca di Rachele Mussolini nel pretendere l'esecuzione di Galeazzo beh sì diciamo ci sono due donne di grande crudeltà in questa storia che sono Rachele Mussolini e Claretta Petacci che poteva ispirare meglio con più miti consigli il suo Benny ma adesso hanno scritto hanno scritto che lei era al soldo dei tedeschi beh è una figura una figura negativa però è rimasta vicino questo vale qualcosa senti lui scappava va bene adesso di questo parleremo travestito da tedesco ricordiamolo sempre sì è nei momenti difficili che si vede l'eroismo ricordiamolo sempre tu a capodanno avevi delle pistole no io no però nel biellese neanch'io avevo delle pistole va bene noi non abbiamo pistole neanche mignonne no neanche piccoline va bene quelle che si mettono nella borsetta ci vediamo domani ci vediamo domani Almanacco di bellezza a cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini con Lucia Simeoni Stefano Puppini Jacopo Ghilardotti Paolo Faroni Riccardo Cassani Nicolò Cazzola e Samantha Chiodini realizzato da Amerigo Daveri Valentino Puppini Luigi Consolandi Stefania Margheritti Alessandro Puppini una produzione classica HD Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo